L'aumento dei costi del carburante e le nuove misure sulla trasparenza varate dal governo Meloni hanno sollevato un polverone sulla categoria dei benzinai che non ci stanno e invocano lo sciopero per il 25 e 26 gennaio. L'aumento di 18 centesimi su benzina e diesel da parte dei gestori è stato accusato come manovra speculativa nei confronti del reale prezzo dei carburanti. Presunta speculazione che è stata contrastata da un decreto del governo che prevede l'obbligo da parte dei gestori e dei distributori di esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita, in modo che ci sia trasparenza nei confronti dei consumatori. Un intervento che non è andato giù ai benzinai italiani così come a quelli di Pesaro, accusati di aver alzato i prezzi ma in realtà si tratta solamente di obbedire alle direttive impartite dalle compagnie petrolifere per le quali lavorano. Ma è assurdo quello che chiede il governo, chiede una trasparenza su un prezzo della benzina che in realtà viene fatta speculando sul prezzo della benzina perché andando a prendere realmente quello che costa il carburante non dovrebbe costare così. Quindi voglio dire il governo dovrebbe andare a dare mano a quello che fondamentalmente sono i prezzi della benzina reali, cioè quello che sono le tasse, le accise sopra, non andando al benzinaio che fra compagnia e distributore insomma quello che rimane è veramente poco. Guadagno che per i benzinai rimane invariato, circa due centesimi ad ogni litro erogato per il self, più o meno il doppio per il servito. Le imposte pesano per circa il 60% sulla composizione del prezzo del carburante, il restante 40% è per due terzi assorbito dal costo delle materie prime del trasporto e ciò che resta è il margine che rimane ai gestori del distributore. Da noi come gestori praticamente si parla di centesimi al litro, cioè una compagnia petrolifera ha naturalmente un guadagno maggiore ma andando a fronte a spese diverse, se c'è una compagnia deve praticamente avere la manutenzione di un distributore, pagare a noi gli oneri di trasporto, tutto, quindi in proporzione è bassissima con fronte a quello che è la fetta del governo. L'aumento dei costi dei carburanti ha generato un evitabile malcontento dei consumatori, costretti a mandare giù l'ennesimo boccone amaro dopo l'aumento del carovite e dell'inflazione. In soddisfazione manifestata anche davanti agli stessi gestori dei distributori. Si arrabbiano perché costa, naturalmente le persone non tutti lo sanno il perché, quindi viene spiegato, però fondamentalmente la grande maggioranza di persone fortunatamente capisce qual è la situazione reale. Ai gestori viene chiesta trasparenza sui prezzi mostrati, ma trasparenza è anche ciò che chiedono gli stessi benzinai al governo. L'intervento del governo è una trasparenza che dovrebbe dare al governo, nel senso far capire realmente cosa c'è su un litro di benzina. Un litro di benzina che costa 1,82 euro, dare una spiegazione e dire ok, costa così perché ci sono queste accise, queste tasse, questa, la trasparenza questa dovrebbe essere. Non che, voglio dire, trasparenza nostra, quindi sono ulteriori costi, ulteriori praticamente problematiche su una cosa minima. Dal canto suo il governo Meloni ha cercato di calmare gli animi di fronte allo sciopero indetto dai benzinai. La stessa premiera ha fatto sapere che martedì 17 gennaio incontrerà i sindacati di categoria per tentare di fare chiarezza.